Ciao a tutti Doggy, io sono Doggy Color e oggi siamo qui su Adopt Me Perché ragazzi siamo anche con un ospite molto speciale, ovvero Eli Ciao Eli, saluta! Ciao! Allora ragazzi, oggi faremo una pazzia Cioè, tanto pazzia ora non è perché è passato un po' di tempo Anzi, salutiamo Ciao, stiamo Ok Sì Salutiamo Chiara Che è nel nostro server Ciao E drago o oscuro Trattino basso, 40, 90 Tutti gli altri non li salutiamo perché sennò Ciao! Ok, perfetto Andiamola, ciao! Allora ragazzi, oggi quindi faremo Oddio, mi si sta un po' pagando tutto Perché? Non si sa bene perché? Continuo a saltare, normale Ciao! Ok ragazzi, mi si stava pagando un po' tutto Quindi, ora mi sono risettata Ecco qua Allora, quindi ragazzi Oggi andremo a Schiudere, no Ma ad aprire una Una RCP Box Allora ragazzi Noi sono stati comuni Purtroppo Sì Purtroppo Quindi noi ora siamo in un server normale E... Ho sbagliato, scusate Faccio venire il mal di mare Abbiamo provato ad entrare con un server ricco Sono di tutti i server ricco che ci troviamo In cui ci ritroviamo Erano poveri Sì ragazzi, quindi Yeah Eh... Ora... Andiamo Vediamo Allora, io la provo a scambiare Mettiamola sicuramente 44% comune 30% non comune 14.5% raro Vabbè, 7% ultra raro 4.5% leggendario Quindi, raga Ah, sicuramente Troveremo Degendario Mh, mh, proprio Allora, raga Per te che quanto è bella Ah Abbiamo Ma do io paura Però Abbiamo patato novanto Io non la voglio prendere No, vabbè Tanto Ma tanto Comunque Non importa Allora Mi stai trollando Perché Ma sei serio? No, non è possibile No, dai Ma perché mi trolli? No, io non posso Non scrivo in chat Seriamente Allora, abbiamo Madò, io ho paura Però se me la fanno aprire Oddio Io ho paurissima Anche se vogliamo aprire Dica, penso che questo sia il trade della vita Certo Metalox Non mi immagino che se mi fanno una buonissima offerta Accertiamo, certamente Oddio Oh no, ti immagini Madò Oddio No Sarebbe il flopo totale Non ci tengo, grazie Oddio, santo Aiuto Ho paura Ho paura Ho paura Se no faccio la stessa fine di Tony La sua origin box Sì Che poi ragazzi è successo un po' un casino Ma lasciamo stare Vabbè Poverino L'ha aperta Ma lui non voleva aprirla Ok Mi tolgo Una cosa Un pinguino Un pinguino Aspetta Aspetta Sì ci sono Ragazzi Per favore Seriamente Stiamo registrando Io non so Cosa ok Che vuol dire ok Che vuol dire ok Che vuol dire ok Abbiamo un'ansia Abbiamo un'ansia Madonna Ragazzi Cioè Dobbiamo aprire C'è sempre quell'ansia Ah La cosa è lenta Sì perché ragazzi Cioè Sapete come È comunque una box E non so neanche perché io sto facendo questo video Eli Mi ha obbligata Ma cosa che tu mi ha obbligata Sì ma non lo so perché comunque Ma è che hanno perso tantissimo amore Non preoccuparti C'è un'ansia Ma Allora ragazzi Certamente non facciamo usare questo video Ansia Lo dobbiamo chiamare Ansia No Lo devo chiamare Ansia Il video più ansioso dell'anno Allora Infatti Ragazzi Madonna Ma poi è bellissima Ma solo che sono indecisa Cioè raga Poi è bellissima esteticamente Eh Questo è vero Questa è proprio bella No Non lo sai Sono stupida Ti ho trovato No ma dai Ragazzi L'ho aperta Ma dai Bello Bellissimo Andiamocene Complimenti Ma poi ragazzi Io ne avevo un altro Io ne avevo un altro Anche io l'altro Oddio Dove sei? Ok Bello Bellissimo Se trovi No ma Che ansia Oddio Allora Vi faccio capire un po' Come sto messa Io ne ho due Di stuputi E una Possiamo fare Leggemi le spada Oui 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 Poi io Ho due Cioè raga Io ho due di questi Ma chi li vuole Ma chi li vuole Io vorrei essere Come la Sabri Che ha trovato Una Un Un camaleon Noi Noi Vabbè ragazzi Io proprio Siamo Io sono stupida Perché certamente L'ho aperta Non volevo farlo Volevo essere tipo Un'area Aesthetic Se andiamo al Capodanno Cinese Teletrasportiamoci Perché voglio Aprire In diretta Una Lunar Tiger Box No io no Perché Penso sia già uscito Il video Dove compravo Tutte queste Tutte le Lunar Tiger Ora però Che brutto Già io non ho neanche La missione Per farlo Ora non ne abbiamo Neanche una Cioè raga Non mi faccio capire Vai E lì E lì E lì Ok Che trovi? 3 2 1 Sicuramente Una Tiger Non male Tanto lo sapevo Vabbè ragazzi Noi vi salutiamo Iscrivetevi al canale E tappate la campanellina Per non perdervi Nessun altro video Siamo delle due Imbranate Già io sono imbranata Perché L'ho aperta Ma tanto ragazzi Non lo facevo Prima Non lo facevo più Seriamente Vedi che Quel secondo Cambiava la situazione Trova un camaleonte Oppure Uno squid Volevo sarebbe stato bello Io poi si diceva In italiano Stavo dicendo Un polpo Vabbè ragazzi Noi vi salutiamo Un bacione Ciao ragazzi Sfortunate Check Ciao Ciao Ciao